Alla fine dello scorso mese di giugno il bando di gara per la realizzazione del soggiorno climatico e località termali in favore degli over 65 residenti a Brindisi. Ora l'avviso pubblico per raccogliere le adesioni tra gli anziani, minimo 40 e massimo 150 per 7 per notamenti a Fiugi in un hotel 3 stelle, partenza il 30 settembre e rientro il 7 ottobre. Pensione completa con doppia scelta dei primi e dei secondi piatti, ci saranno due serate danzanti anche con giochi di società e due escursioni in località della zona di importanza storica o culturale. Il viaggio rappresenta una possibilità di aggregazione di svago con iniziative a carattere socio-ricreativo-culturale si legge nella delibera con cui l'esecutivo ha approvato il bando di gara impegnando 60.000 euro dopo il flop dello scorso anno, quando il soggiorno climatico venne annullato a causa del numero insufficiente di adesioni. Appena 12 domande, a fronte delle quali solo 3 confermarono l'adesione. Gli anziani che vogliono partecipare al soggiorno devono godere di buona salute e non avere malattie contagiose. Per chi è interessato alle cure termali si rende necessaria la prescrizione del medico di base con l'indicazione del tipo di trattamento a cui sottoporsi. Alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità. L'istanza di partecipazione dovrà essere ritirata presso lo sportello dei servizi sociali in via Grazia Balsamo, mentre la consegna dovrà avvenire entro il 19 settembre prossimo all'ufficio protocollo di Palazzo di Città oppure potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata. Quanto al ticket di partecipazione, l'amministrazione comunale ha previsto 5 fasce di reddito ISEE. La prima arriva sino a 5.000 euro, con quota a carico del singolo pari a 384 euro. La seconda da 5.000 a 7.000 euro, con costo pari a 484 euro. Il terzo scaglione di reddito è sino a 12.000 euro, con ticket pari a 584 euro. Il costo ammonta a 634 euro per gli anziani che rientrano nella quarta fascia di reddito, che va da 12.000 a 15.000 euro. Per l'ultima fascia, quella oltre i 15.000 euro, il ticket ammonta a 734 euro. Ai fini della graduatoria, a parità di reddito, sarà considerata l'età degli anziani.